Il mondo va Io aspetto qua, seduto immobile a pensare Se la città tra freddo e cenere Dà un prezzo alle vertigini Se è vero che chi corre in fondo ha la speranza di vincere E poi se esiste un termometro adatto a misurare l'anima Esiste un po' di più In mezzo al graffio del tempo Il presente Siamo qui con Moises per portare l'adozione scolastica Anche quest'anno 2015 Grazie alla madrina Pascaline Moret Pascaline, a parte tutto il materiale scolastico Che servirà quest'anno a Moises Ha pure donato le scarpe ortopediche speciali per Moises Costruite sui piedi di Moises Siamo andati dall'ortopedico E abbiamo fatto le scarpe su misura Qui abbiamo tutta la famiglia di Moises Il papà, la madre Una sorellina Il fratellino nato da poco E Moises Gli altri due fratelli non sono presenti Signora, buenos dias Usted è la madre di Moises E me conta che Naccio di poco Quanti mesi ha il suo figlio? Due mesi E si chiama? Santiago Caleri Dopo di Santiago Abbiamo la nina che si chiama? Adriana Lucía Adriana, quantos anni ha? Due anni Usted è il papà, si chiama? Luiz Rodríguez Signor Luiz Usted ha anche 12 ragazzi Come si chiama? Juan Luiz e Anderson Juan Luiz quantos anni ha? 17 17 E Anderson? 6 6 anni E il nostro amico Moises Quanto anni ha? 13 anni 13 anni ha compito Moises Vuoi salutare la tua madre? 6 anni E qui con noi anche la professoressa di Moises Esti utili Vanno servire Per tutto questo anno A Moises E Dìgame Algo di Moises Se sta migliorando Con l'andatore E come va la scuola? E come va la scuola? E E come va la scuola? 7 anni e i zapattoli anche. Abbiamo lì il andatore con lo che è andato, che anche si serve, e sono molto felice per tutto ciò che ci hanno donato. Signora, vorrei ringraziare e saluto a signora Pascalin per questa ulteriore donazione, già da tre anni, aiuta a suo figlio. Buongiorno a signora Pascalin, sono molto felice per le ultime ringrazioni, per essere mio figlio, e ho spero che Dio ci rende, che Dio ci rende la mia vita, per essere la mia vita, non solo a mia vita, ma anche a molti inscrizioni, che ci hanno bisogno di questo, e ha tre anni, che ho avuto migliorare la migliorazione della mia vita, e ho mio figlio. Grazie, che Dio ci rende. La mia vita. Bene, Pascalin, un saluto da la scuola C.B. Manuel Clavero, dalla classe di Moisesse. Ciao Pascalin! Ciao! Scienziati in panico Soperto la gravità, e passeggio sul blu. Io credo che in questo correre... Hola Moises! Pascalina ti sta salutando Moises e ti ringrazia per la donazione. Lo sai mi viene anche da ridere, mi imbatto sempre più, spesso i nomini che vanno a batteria, ma noi proprio come i motori da sole andiamo in avaria.